Grazie per essere rimasta. Il prossimo appuntamento ci vado armata, te lo giuro. Prossimo? Bella, ma non ti sei stancata? Hai preso una lignata dopo l'altra. Lascia stare. Io non posso. Se te lo dico, mi prometti di non dirlo a nessuno e soprattutto di non guardarmi con pena? Ti guardo sempre con pena. Se non me lo vuoi dire, me ne vado. Ho una malattia. E' legata alla sinestisia di cui ti parlavo. E' neurodegenerativa ed è ereditaria. Forse se trovo mio padre trovo anche una cura, capisci? Una bella fregatura. Però c'è una speranza. No, ma la fregatura non è che potresti morire, quello vale per tutti. E' che per curarti hai bisogno di uno stronzo che non si fa trovare. Forse mio padre non ha visto l'annuncio. Insomma, perché non dovrebbe volermi vedere? Perché le cose non vanno mai di morire. E' che per curarti. E' quella cosa che è ch Houston che andava. E' la mia road. E' una cosa che è mattina.